l'adi può diventare un albo esattamente come l'albo degli architetti allora non sono assolutamente sovrapponibili nel senso che quella del del designer è una professione non ordinistica che cosa significa che ci sono delle professioni che sono ordinistiche e che sono associate a un a un albo significa significa che quella professione è definita dalla legge quindi esiste una legge che stabilisce quelle che sono le attività riservate e nessuno si può improvvisare cioè io non posso andare in giro a dire che faccio il medico perché mi arrestano nel senso che anche se poi succede però questa cosa non si fa rispetto a ci sono tutta una serie di altre professioni che invece non hanno un albo questo è un motivo storico nel senso che c'è stato un momento in cui si sono aperti gli albi e di fatto a tutela in qualche modo delle professioni che erano più sensibili no perché evidentemente se una persona sceglie di diventare medico proprio per i rischi e le abilità che sono necessarie non tutti si possono improvvisare necessaria una formazione di un certo tipo e via discorrendo questo non viceversa poi nel corso del tempo tutta una serie di professioni non sono state associate ad albi ma non perché non siano importanti o ci siamo detti che essere designer significa capire di avere una grande responsabilità rispetto a quello che si fa perché davvero si può incidere sulla vita della delle persone si può generare una malattia cioè se io disegno male una sedia in qualche modo condiziona la postura e posso creare attendere dei danni no piuttosto che posso utilizzare i materiali sbagliati e generare problemi all'ambiente però storicamente diciamo che nel tempo non gli albi a un certo punto non si sono più più aperti quello che potrà succedere è che in qualche modo si ci sia una maggiore riconoscibilità della della professione in questo senso ha di sta lavorando insieme con conf commercio professioni perché ha di in virtù della legge 4 del 2013 adesso non voglio entrare in tecnicismi però da un certo punto in poi lo stato italiano ha deciso che per le professioni non ordinistiche il punto di riferimento potessero essere le associazioni quindi in questo senso ha di è scritta l'elenco 2 del mese quindi nel ministero dello sviluppo economico ed è il punto di riferimento per i designer quindi non è un albo mai dire mai ma probabilmente non non ci sarà mai un un albo dei designer per come lo interpretiamo come l'albo dei medici l'albo della degli ingegneri però di fatto ci possono essere delle certificazioni professionali che probabilmente ci saranno in in futuro e su cui stiamo lavorando ottimo ottimo si anche perché sarebbe ecco lo sarebbe davvero una cosa una cosa interessante questa domanda davvero me l'hanno fatta tutti allora aggiungo scusa se ti ho interrotto aggiungo che un altro tema su cui stiamo lavorando è la normativa uni dei designer quindi di nuovo non entro nelle tecnicalities del del processo ma per definire un una norma unica è la stessa che definisce di che misura devono essere i fogli quindi il foglio a 4 è 21 per 29 7 perché c'è un una norma che stabilisce norma uni o norma iso che stabilisce che a quella sigla corrisponde quella quella dimensione all'interno dell'uni non sono normate solo le cose ma sono normate anche le le professioni quindi come adi insieme con altri attori comunque adi è una delle associazioni proponenti del tavolo per definire la norma uni che chiarisce che cosa fa un designer essenzialmente quindi a uno dei primi passi che è contemplato sempre dalla legge 4 del 2013 per arrivare poi alla certificazione perché la certificazione può basarsi sulla sulla normativa uni quindi anche questo sarà un passaggio epocale quando riusciremo a farlo ok sono processi lunghi quindi avere un po di pazienza ma arriviamoci arriviamo